Cosa ne sai dei mercanti di grano? Ciao anche a te. Molti di loro sono poveri ormai, perché? Ho una pista su Germaine. Una donna di nome Marie compra per lui i carichi di grano e li dirotta in un porto privato. Marie Leveque. La conosci? I Leveque sono templari dalla terza crociata. Marie è stata l'unica a opporsi alla cacciata di Germaine. Non mi sorprende che lavori per lui. Sai dove possiamo trovarla? No, io non lo so. Ma il poco grano che riesce ad arrivare a Parigi ora si trova all'Hotel de Ville. Ottimo. Andrò lì. Forse scoprirò dove si trova la signora Leveque. Ordine! Ordine! Fateci largo! Abbiamo fame! Uno per volta! Ehi! Tornate qui! Avete mancato il molo, idioti! Dove andate? Mi tocca inseguirlo. Tornate! 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 Tornate, porca troia! In dettagli! Non passerai mai più via! Tornate! Tornate! Amore! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Qualche problema? No signora Conoscete gli ordini? Sì signora Bene E inoltre vi informo che uno dei sacchi dovrà cadere Sì signora Al lavoro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Porca puttana Tromblei Ehi Dopo Jacques A chi toccherà? Che diavolo C'è qualcosa che non va Grazie a tutti 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 Grazie a tutti